Oggi vi racconto il mio viaggio alle Bahamas, in particolare nell'isola di Gran Bahama, tra mari cristallini, colori incredibili e meravigliose esperienze. Primo assaggio del Bahama Mama. Super alcolico! Sono alle Bahamas da tre giorni, ormai questo è il terzo giorno. Devo dire che il resort è molto carino. Inizia abbiamo avuto un beach party e oggi pomeriggio abbiamo avuto un pool party stile spring break. Abbiamo fatto snorkeling ieri ed è stato molto carino a Peterson Co. Siamo appena scelte dalla barca e ci stiamo avvicinando ad un isolotto che è quello lì. È un parco naturale dove ci sono questi coralli che sono emersi dove gli uccelli fanno i loro nidi. Il mare era stupendo e abbiamo fatto snorkeling dove abbiamo visto tantissimi pesci di tutti i colori. Abbiamo visto le tartarughe, le coralli di ogni forma e ogni colore. Adesso stiamo per uscire e andiamo a cena in questo ristorante dove si mangia sushi e altre cose. dove dovremmo vedere il tramonto e gli squali. Perché pare che loro diano da mangiare regolarmente gli squali e loro si avvicinano a una certa ora della sera per mangiarli. Quindi sono molto molto emozionata. Eccolo. Eccone un altro. Eccolo un altro. Oh mio Dio. Sto arrischiando l'isolazione ma devo farvi vedere questo parco di mangrovi è incredibile. Ed ecco una delle spiagge dove è stato girato Pirati dei Caraibi. Siamo arrivati a Banana Bay. Guardate questo posto bellissimo. Grazie a tutti. Eccolo un altro. Eccolo un altro. Eccolo un altro. Eccolo un altro. Questo è il conch. Eccolo un altro. Questo è la conchiglia. E questo è il mollusco che viene cucinato per fare il conch. Che adesso vediamo. Grazie a tutti Devo ammettere che sono abbastanza nervosa